Bellissima musica che ci avete regalato, davvero voglio rivolgere i migliori auguri di buone feste a tutte le Romani, a tutti i Romani, in uno spirito di pace, di fratellanza e di amicizia. Davvero, buon Natale a tutti, buone feste a tutti noi e adesso è giunto il momento di dare il via al conto alla rovescia per accendere l'albero. Facciamo partire. Vi aiutate? 3, 2, 1, 3, vai! Grazie. 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 Grazie.